C'è stato già un primo dibattito sulla relazione di iniziativa strategica sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un'impostazione olistica nei confronti della migrazione, con la partecipazione del commissario Avramopoulos e il ministero degli interni di Malta, Gonsi, e con la presidenza Lettone in rappresentanza del Consiglio. Oggi la Commissione ha avviato il primo dibattito su questa relazione di iniziativa strategica. Qua sono presenti le due correlatrici, l'onorevole Mezzola del PPE, il maltese, e l'onorevole Kienge dell'SD, italiana. Per informazione, forse ricorderete che in una risoluzione approvata nello scorso dicembre il Parlamento aveva richiesto alla Commissione Libe di elaborare una relazione molto approfondita sulle sfide che vanno affrontate sulla migrazione e asilo. Le correlatrici sono state nominate e, come dicevo, oggi è partito il dibattito a livello della Commissione Libe. L'obiettivo è quindi quello di elaborare una relazione che verrà votata in Aula entro la fine dell'anno. Le relatrici presenteranno i loro pareri su ciò che dovrebbe figurare in questa relazione e sul lavoro che le attende in futuro. In fondo alla sala troverete la risoluzione del Parlamento del mese di dicembre e anche il comunicato stampa che avevamo pubblicato allora. Passo subito la parola al correlatrice e l'onorevole Mezzola, prego, a facoltà. La ringrazio, grazie a tutti per essere qua con noi oggi. Come Isabel ha spiegato, il contesto si basa sulla risoluzione adottata nello scorso dicembre. È importante però fare ancora un passo più indietro, poiché c'è anche una risoluzione che abbiamo approvato con un grande sostegno da parte di tutti i partiti nel ottobre 2013, dopo la tragedia di Lampedusa. Qual era il messaggio in questa risoluzione? Ci si chiedeva come, in maniera concreta ed olistica, identificare una soluzione generale, completa, che affronti e risolva il fenomeno della migrazione. Per il momento abbiamo notato che c'è stato sì un sostegno molto forte da parte di tutti i partiti a livello del Parlamento, ma a livello del Consiglio gli Stati membri non hanno espresso lo stesso tipo di sostegno. Quindi rieccoci qua. Al momento stiamo discutendo la questione non solo al Parlamento europeo, poiché ci troviamo proprio nel bel mezzo di un'enorme crisi nel Mediterraneo. Migliaia di persone sono state salvate dal mare negli ultimi giorni. Ci siamo svegliati purtroppo venendo a conoscenza di un'ulteriore tragedia nel Mediterraneo. Quindi all'incontro di oggi, alla conferenza stampa di oggi, discuteremo di nuovo questa questione, poiché abbiamo notato che ogni volta che mettiamo nel cassetto la questione, quando si perde la motivazione politica a livello delle istituzioni, ancora una volta vediamo che le tragedie continuano ad accadere. Qual è la nostra missione? Desideriamo identificare una volta per tutte in maniera concreta l'obiettivo di questa istituzione per far fronte a questa questione. La collega Chiang, che sicuramente poi aggiungerà altre osservazioni e approfondirà i punti che io ho indicato, dicevo io e la mia collega abbiamo identificato otto settori sui quali vorremmo concentrare la nostra relazione. In questo senso desidero anche aggiungere che analizzeremo attentamente anche il lavoro della Commissione europea che elaborerà e pubblicherà una relazione nel mese di maggio e questo contribuirà e sarà un utile input per la nostra procedura. Abbiamo identificato otto capitoli, abbiamo intenzione di collaborare anche con tutti i relatori ombre e speriamo che in tutti questi otto capitoli si identificheranno e si prevederanno dei provvedimenti e soluzioni adeguate per i singoli elementi che riguardano questa tematica. Guarderemo ad esempio alla solidarietà nei confronti dei paesi più colpiti, un'equa condivisione delle responsabilità, come migliorare le capacità di ricerca e salvataggio. Chi ha partecipato alla riunione stamattina ha potuto sapere e ha potuto notare quante volte si è citata la ricerca e il salvataggio. Inoltre vogliamo notare contro la criminalità organizzata e quelli che sono gli hub della criminalità che colpiscono i gruppi più vulnerabili, poiché i trafficanti stanno utilizzando metodi sempre più sofisticati man mano che il tempo passa e che i conflitti si diffondono, per sfruttare in maniera terribile le persone che hanno invece bisogno di tutela, di protezione e di aiuto da parte dell'Unione Europea. È necessario garantire una valida attuazione del sistema comune di asilo europeo, dobbiamo gestire le rotte della migrazione e soprattutto gestire la situazione negli Stati membri più colpiti. In questo senso vorrei far notare che non ci concentriamo prettamente sul Mediterraneo, ma sull'Unione Europea in generale. Guardiamo a come i diversi Stati membri nell'Unione Europea potrebbero affrontare questa questione. Guardiamo ai sistemi della migrazione legale, sicura, in modo da alleggerire, semplificare la situazione a livello umanitario nelle zone più colpite. Vogliamo semplificare, migliorare i canali di migrazione legale, garantire un miglior coordinamento a livello delle politiche anche nei confronti dei Paesi terzi. Per concludere, cercheremo di guardare a come i fondi degli affari interni vengono spesi al momento e come migliorare l'erogazione di questi fondi. Concludo con delle statistiche. Nel 2014 l'Unione Europea ha registrato circa 650 mila richieste di protezione internazionale. Questo rappresenta un aumento del 40% se facciamo un confronto con il 2013. Stiamo notando che, vista la situazione in Siria, visto il peggioramento della situazione in Libia, questo ci fa capire che dobbiamo essere pronti, dobbiamo far sì che i nostri sistemi siano pronti, poiché le sfide non finiscono qui. Dobbiamo quindi affrontare questa questione con tutte le nostre forze, garantendo al contempo che le nostre agenzie abbiano le risorse adeguate e appropriate per far fronte a questa situazione. C'è l'aspetto della solidarietà che stamattina è stato citato diverse volte nel dibattito. Infatti più e più volte sono stati fatti dei riferimenti al fatto che se non c'è una vera e propria solidarietà non faremo che allontanarci dalle nostre responsabilità, voltare le spalle alle nostre responsabilità. Non vogliamo un'Europa fortezza. Speriamo che si possa trovare una base comune di consenso a livello di questo Parlamento per elaborare un elenco concreto, adeguato di soluzioni da utilizzare per negoziare in tutti gli aspetti del nostro lavoro nel settore durante questa legislatura. Grazie. Passo ora la parola all'onorevole Chienghe. Grazie Roberta, grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie per aver seguito e continuare a seguire la presentazione della nostra relazione. Continuerò la presentazione in italiano in modo da poter anche sviluppare dei punti che Roberta vi ha presentato nella sua prima introduzione. Cercheremo di condividere il lavoro, lavoro che vede come priorità la condivisione equa dei compiti. Condivisione che coinvolgerà anche tutti i gruppi politici, utilizzando tematiche ben specifiche, tematiche sulle quali ci concentreremo particolarmente. Noi in prima persona saremo coinvolte per garantire un massimo coordinamento. Passa all'italiano. Sentiamo parlare e associare piuttosto il termine di crisi al fenomeno migratorio. Io inizierei proprio da questo punto. Si dice che l'Europa stia affrontando una crisi migratoria e la causa sarebbero i 250 mila arrivi di persone senza regolare permesso di soggiorno durante il 2014. L'arrivo di 250 mila persone, una comunità di 500 milioni di abitanti, composte dalle nazioni più industrializzate al mondo, a mio avviso non è una crisi. Ma la vera crisi è proprio l'impasse politica in cui si trova l'Europa. Questa io chiamerei una vera crisi perché è la mancanza di una politica comune migratoria. Quindi dobbiamo avere una visione comune per poter condividere con i 28 Paesi quello che saranno appunto i punti su cui andremo ad approfondire e che costituiranno la base per una vera politica migratoria. Una volta per tutti dobbiamo uscire dalla logica emergenziale. Questa logica che ha reatterizzato la politica europea. Proprio per questa vorrei ricordare alcuni numeri, proprio per rendere un po' più concreto quella di cui stiamo parlando. I risultati che sono tristamente noti. 470 morti nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno e siamo solo ad aprile. 3.500 nel 2014. E negli ultimi quattro giorni nel mio Paese, in Italia, sono stati soccorsi nel canale di Sicilia 5.629 migranti verso l'Italia. I centri di accoglienza situati sul nostro territorio hanno raggiunto la capacità massima e non sono più in grado di ospitare i migranti. Io credo che questi sono i punti veri che dobbiamo mettere al centro anche della riflessione per condividere con i 28 Paesi e condividere le responsabilità con tutti i Paesi e non 5 o 6 di cui spesso sentiamo parlare di accoglienza oppure di affrontare una politica di immigrazione. Il primo punto di cui vi ha parlato anche Roberta per la tutela della persona, le libertà fondamentali. Io direi che questi due punti devono essere al centro di ogni politica. Noi abbiamo questa mattina condiviso appunto questo rapporto anche con altri deputati dove magari in alcuni gruppi emergeva un punto piuttosto che un altro. Il nostro lavoro è quello di coordinare, di mettere insieme tutti i punti, di mettere insieme gli otto temi che sono stati individuati per riuscire appunto a dare quest'approccio che vogliamo cambiare, che è un approccio olistico. Un nostro dovere morale è anche quello di rispondere agli ideali di pace e giustizia su cui si fonda l'Unione Europea, quindi garantire degli obblighi di ricerca e soccorso in mare. Questo è uno dei primi punti su cui vogliamo lavorare molto. Vorrei ricordare anche proprio a proposito di Search and Rescue il fatto che l'Italia alcuni mesi fa aveva proposto l'operazione Mare Nostrum che in un anno aveva salvato più di oltre 150.000 persone. Quella operazione a mio avviso era un'operazione lungimirante che non è stata adeguatamente sostituita appunto da Triton che gli sforzi profusi non sono stati in grado di raccogliere questo testimone di Mare Nostrum. Quindi da parte nostra arrivare a un appello molto forte affinché le operazioni di ricerca siano coordinate congiuntamente da tutti gli Stati membri e diventano un obbligo contemplato appunto dalla legislazione europea. Per passare poi all'altro punto che è quello della solidarietà e responsabilità è un principio che dobbiamo sviluppare attraverso questi mesi nel nostro rapporto di iniziativa al di là delle contrapposizioni tra Paesi occorre una presa in carico comune dei flussi migratori verso l'Europa. Una presa in carico deve essere organizzata in modo non emergenziale come ho detto prima perché non è né un problema, quindi non è né un'emergenza né un problema ma deve essere gestita questo fenomeno in modo strutturato. Esploreremo il funzionamento dei programmi attuali di reinsediamento anche con alcune organizzazioni, con progetti che sono già in atto in alcuni Paesi il sistema dei vissi umanitari, la protezione internazionale analizzeremo nel dettaglio le proposte recentemente lanciate io qui forse, come abbiamo sentito anche oggi all'interno della Commissione Libe forse un approfondimento sulle proposte di presidi internazionali nei Paesi di transito per avviare la procedura di concessione di protezione umanitaria quindi particolare attenzione a analizzarlo meglio per essere il più possibile condiviso e non cercare di fare comunque di porre delle basi che ci possono mettere anche in difficoltà ma delle cose molto concrete. In terzo luogo quelle delle vie legali dell'emigrazione esplorare i canali sicuri, legali di accesso per l'Europa la lotta alle organizzazioni criminali anche questo è uno dei punti fondamentali non devono restare iniziative isolate lasciate alla mera volontà degli Stati membri ma azioni sostenute dall'UE un rafforzamento della politica estera e di cooperazione non solo con i Paesi della sponda del Mediterraneo ma anche con quelli dell'Africa subsahariana occorre rilanciare alcuni processi come quella di Rabat e parlare anche del processo di Khartoum ma con una particolare attenzione nel processo di Khartoum mettere al centro di questi processi il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali inoltre valutare l'attuale applicazione del pacchetto legislativo sul sistema europeo e comune e di asilo quindi sollecitare la Commissione e su questo punto è molto bello ma è stato anche molto importante la presenza oggi di diverse persone prima di tutto del Commissario che è venuta a condividere ciò che vuole sottolineare anche l'importanza di lavorare con la Commissione con il Commissario, con il Consiglio ma anche con tutte le persone che potranno dare un contributo in questo percorso io ho un altro punto forse di cui si è parlato poco noi dedicheremo un'attenzione particolare anche all'utilizzo dei fondi europei che fa parte degli otto punti in particolare chiederemo un'inchiesta su come sono stati spesi i fondi destinate alle emergenze per le azioni concernanti la migrazione, l'asilo, il controllo delle frontiere e i rimpatri e quindi la nostra disponibilità sul mettere insieme questa agenda che sarà calendarizzata all'interno della nostra Commissione attraverso anche visite che saranno programmati da luoghi che saranno scelti dalla sottoscritta e anche dalla mia collega Roberta condivisa anche in alcuni casi anche dalla Commissione su quello che potrà essere il contributo al nostro lavoro quindi se ci saranno delle domande siamo lieti di poter rispondere io nel frattempo credo di aver detto e di aver approfondito i punti principali del nostro rapporto grazie grazie, ora sentiamo le domande vi chiedo di presentarvi dire per chi lavorate e rivolgetevi anche nello specifico ad uno dei deputati Lara Lara Malvesi nella Spagna il commissario Avramopoulos e il Consiglio Europeo nutrono delle preoccupazioni sulla situazione in Spagna poiché i migranti vengono rinviati immediatamente senza avere un fascicolo vero e proprio della richiesta d'asilo quindi vorrei sapere se questo punto sarà effettivamente affrontato nella raccomandazione per la Commissione grazie e la domanda è rivolta ad entrambe le colleghe giusto? thank you very much sì, grazie sì, il commissario Avramopoulos ha effettivamente espresso delle preoccupazioni su questa questione penso risulti chiarissimo che dedicheremo i prossimi mesi ad ascoltare coloro che si rivolgono a noi esponendo dei problemi che vorrebbero fossero affrontati nella nostra relazione qualsiasi cosa che porti a negare a qualcuno una protezione prima di aver garantito a queste persone i loro diritti d'asilo è un qualcosa che merita la nostra attenzione punteremo sempre l'accento sul fatto che gli stati membri devono rispettare le normative internazionali e i principi dei diritti umani ho diverse domande sul lavoro che avete intenzione di fare che avete anzi già avviato innanzitutto potreste dirci brevemente che cosa si intende con impostazione olistica poiché se ne parla costantemente si usa costantemente questa espressione e sembra questa sia la chiave per capire perché l'impostazione adottata ora è diversa da quella utilizzata fino ad ora e perché questa impostazione olistica questa è una domanda vera e propria perché questa impostazione ci garantirà che finalmente si avrà una politica comune sulla migrazione la commissione precedente il consiglio precedente il parlamento precedente non sono stati in grado di elaborare una politica tale negli ultimi anni uno dei motivi per i quali non c'è stata una politica comune e questa è la seconda domanda è che il trattato prevede che la politica della migrazione è una politica si spegne il microfono purtroppo dell'oratore c'è però un articolo nel trattato che prevede che la migrazione legale è di competenza esclusiva degli stati membri quindi gli stati membri quando si oppongono alla politica comune si basano proprio su questo articolo specifico e allora come raggirare un po' questo problema ultimo punto forse non ho letto correttamente la risoluzione ma non mi sembra di aver trovato l'indicazione relativa ai corridoi umanitari e alla possibilità che i richiedenti asilo possano avere un passaggio sicuro verso l'Europa per poter poi presentare la loro richiesta di asilo o meglio presentando la richiesta di asilo già nella sponda sud del Mediterraneo questo forse è un qualcosa che potrà essere creato grazie al vostro lavoro poiché sembra che questo sia uno degli aspetti più importanti avrei anche altre domande ma direi che mi posso fermare qui grazie grazie onorevole Chienghi prego grazie grazie per la domanda ma direi che al primo punto l'approccio olistico ma vuole mettere proprio insieme tutti i temi credo che noi siamo sempre stati sul come sottolineato prima anche nel mio discorso uscire da questo approccio emergenziale settoriali che ha in continuazione non ha permesso di dare una soluzione affrontando in un modo globale tutto il tema del fenomeno migratorio il fenomeno migratorio non può essere affrontati settorialmente anche perché tutti i punti sono interdipendenti e credo che una soluzione efficace possa soltanto essere data dal mettere insieme tutti questi punti insieme cercando di condividerli con i diversi settori con i diversi commissari quella dell'alto commissario per della presentanza per la politica estera il commissario Avramopoulos quella per la cooperazione internazionale non sono temi che devono essere affrontati separatamente e quindi noi chiediamo proprio la necessità di un approccio globale un approccio olistico di fronte a tutto questo mettendo anche a mio avviso anche il valore della vita umana al centro di ogni agenda politica al secondo punto il fatto che le migrazioni legali appartengono siano di competenza di ogni stato membro credo che in questo momento tra gli otto punti che noi abbiamo elencati dove abbiamo anche detto rafforzare le vie legale per l'immigrazione intende anche una collaborazione con gli stati membri una collaborazione con diversi soggetti proprio per dare un'impostazione a livello di una politica per lungo tempo è stata una politica lasciata alla discrezionalità quindi su alcuni punti degli stati membri di poter condividere un percorso e avere una base comune e credo anche una visione comune che ci deve permettere di avere finalmente quella politica che stiamo cercando e per quanto riguarda i corridoi umanitari noi abbiamo parlato di un'applicazione del pacchetto legislativo quindi rivedere il sistema europeo comune e di asilo e questa ci dovrebbe permettere in qualche modo di rafforzare quello che è l'accesso all'asilo di tutte le persone ma in collaborazione anche con i paesi terzi abbiamo anche parlato del fatto che analizzeremo perché il nostro compito e l'ha detto prima la mia collega Roberta prima ascolteremo tutti organizzatori ONG associazione istituzione diverse commissioni proprio per arrivare a delle proposte concrete alla fine anche per quanto riguarda l'accesso all'asilo e anche al sistema appunto europeo di asilo grazie insomma si sapeva che sarebbe stato difficile è una sfida ostica da affrontare l'esperienza da mamma maturata da me otto anni al consiglio e da otto anni che mi occupo di questi fascicoli e in questi otto anni per l'appunto ho capito come diceva la collega se si vedono le cose sotto una specifica angolatura non si può avere una visione complessiva delle cose e non si può neanche sapere quale dovrebbe essere la soluzione complessiva quindi l'impostazione olistica olistico si utilizza è sulla bocca di tutti per avere insomma come si diceva è che anche la commissione che utilizza lo stesso oggettivo e poi anche altri ministri degli incarni continuano a ribadire che l'unico modo per avere delle soluzioni concrete è per appunto avere dotare un'impostazione globale e non invece per compartimenti stagni quindi si può fare professioni di ottimismo e penso che si potranno trovare determinate soluzioni visto che non saranno soluzioni fragmentate e proprio per questo ci sarà una misura concreta condivisibile e condivisa la tutta per quanto riguarda la competenza esclusiva degli stati membri si va bene ricorderete però anche il fatto che c'è la solidarietà introdotta nel trattato di Lisbona nello stesso capo e questi stessi articoli vengono utilizzati per far sì che insomma poi da un punto di vista politico si possa rivolgere la commissione agli stati membri e dire non è che si possa fare una cernita di determinati articoli del trattato perché sono più utili e poi per quanto riguarda i corridori non parlo specificatamente nella risoluzione però insomma c'è un piano per voler se ne prevede la discussione ecco è una tematica che sta a cuore il mio gruppo dei popolari con il Parlamento europeo ne parleremo tra i membri della commissione per cercare di capire quale sia insomma quale sia l'accordo a portata di mano tra i diversi gruppi e so che è una tematica estremamente ossica e stamattina chi ha partecipato alla riunione insomma ha capito che tutti parlano con la massima attenzione prestano la massima attenzione prima di intervenire sulla tematica prego altre domande una crisi molto aspra no? e per fine maggio c'è un'agente strategica l'agenda strategica per la commissione ci sarà relazione per fine d'anno poi per la prossima stagione del 2016 ci saranno ancora delle discussioni aperte credo e com'è che si gestisce come si vuole gestire questo problema questa crisi è un problema di natura umanitaria di sicuro médecins sans frontières che hanno cercato di dare una mano alle persone che si trovavano in alto mare eccetera insomma com'è che si può risolvere il problema dal punto di vista concreto insomma ma che si sta facendo ora è che nel caso di focolaio di crisi si vuole trovare una soluzione rapida per risolvere il problema quando si è parlato con gli agenti offshore ma ci si è rivolti a loro dicendo che vorremmo trovare una soluzione in cui le vostre organizzazioni non ce ne saranno più bisogno di queste organizzazioni perché ci sono i governi che si assumono le loro responsabilità e la loro risposta è stata allora che si può fare se le persone continuano a morire e l'anno scorso prima della stagione precedente quando c'è stato un incontro loro mi hanno detto va potrebbe anche essere che coinvolgete nell'operazione di salvataggio e allora vedrete un po' cosa succede stamattina ci si è resi conto che se anche qui mi ricordo quelle che sono state le discussioni molto accalorate insieme al Consiglio per cercare di capire come poter girare gli ostacoli tipo normativo se da un punto di vista politico e anche da un punto di vista concreto in loco si riesce a bloccare la pirateria dalla costa somala insomma quali sono le risorse per la nostra disposizione bisogna vedere quali sono i risultati denegoziati bisogna poi rivolgersi a quella che è la situazione del bacino mediterraneo utilizzare le risorse per salvare le vite umane potete immaginarvi che ci sono certe difficoltà perché a volte ci troviamo tra quello di vedere il tratto la tratta degli esseri umani e cerca di salvare le vite umane insomma si deve cercare di trovare un equilibrio questo successo di recente era un successo che sono stati atti veramente tragici e perpetrati dai responsabili della tratta degli esseri umani utilizzando queste vite che si sono trovati nelle loro umane che hanno pagato molti soldi e hanno strumentalizzato queste vite umane le hanno gettate in acqua e le hanno gettate e le hanno messe a bordo di queste imbarcazioni di fortuna insomma volete immaginarvi che dovremmo anche ringraziare le autorità le guardie costiere perché si sono veramente rimboccate le maniche perché le risorse sono ben uccite da essere sufficienti se si diceva giustamente parlava del mare nostrum quelle che sono le limitazioni le limiti inerenti un progetto di un unico Stato membro cioè bisogna lasciarlo da solo per mesi ma quante quelle saranno quante persone devono morire quante sono state le persone salvate però l'Italia aveva bisogno ha avuto bisogno di aiuti e Malta da solo neppure ce la può fare da sola l'autorità maltesi stanno facendo del loro meglio però c'è bisogno di una maggiore attenzione proveniente sia dagli Stati membri che da Bruxelles per capire che non sono problemi che riguardano da vicino solo l'Italia e solo Malta sono problemi che riguardano tutto il contenente prego Onorevole Kang Sì io a questa domanda vorrei ricordare la tragedia di Lampedusa del 2013 io ero lì a Lampedusa e a vedere come venivano ripescate anche le persone dal mare perché io ero dentro il governo rappresentavo il governo per cui noi dovevamo dare una risposta a quella a quell'emergenza a quella tragedia che per lungo tempo non è stato visto perché i numeri non erano così imponenti come quella a cui abbiamo assistito nel 2013 per me è stata in qualche modo sentirsi impotente pur essendo dentro l'istituzione impotente ma anche una rabbia nel senso che non è un problema è un fenomeno naturale e non è un punto che appartiene a un paese che era l'Italia che in quel giorno stavo rappresentando ma appartiene a tutti i 28 paesi che io non vedevo sulla spiaggia che io non vedevo a fianco a me ad assistere a quella a cui noi stavamo assistendo e proprio partendo da lì alcuni giorni dopo abbiamo elaborato quel progetto che è stato conosciuto come Mare Nostrum perché volevamo dire basta a quella che era una politica in qualche modo della cultura dello scarto anche della vita di un essere umano ma cercare di mettere al centro il valore di un essere umano cercare di riportare all'attenzione dell'Unione Europea quello che per tanto tempo e per lungo tempo non si è guardato il primato della vita umana metterlo nelle politiche europee Mare Nostrum doveva essere un progetto breve a breve termine proprio per passare nelle mani dell'Unione non più Mare Nostrum ma come aveva detto alcuni mesi fa il commissario il commissario Timmermans aveva parlato di Europa Nostrum questa doveva essere cioè la condivisione l'equa ripartizione delle responsabilità mettere in concreto la solidarietà fra i diversi paesi e quindi questa crisi doveva essere condivisa cioè quella tragedia doveva essere introdotta da una risposta politica non semplicemente burocratica controllo delle frontiere oppure di un settore ma doveva essere una risposta politica che stiamo cercando che deve essere anche quella della solidarietà equa ripartizione delle responsabilità ma di concreto noi pensiamo anche con Roberta che questo compito che ci è stato affidato è quella di riportare appunto questo termine ma ridarli anche quell'aspetto umano che è mancato in tutti i suoi otto punti ma coinvolgendo anche le organizzazioni umanitarie non è semplicemente responsabilità degli stati ma è responsabilità di tutti come prevenire i morti nel Mediterraneo anche dall'altra parte come dare anche avere una collaborazione con gli altri paesi credo che noi se arriviamo a questo attraverso questi otto punti che ci siamo prefissati sicuramente avremo messo le base anche per cambiare completamente quelle che sono state anche le mancanze e anche proposte non complete dell'Unione Europea Sì grazie vi sono altre domande la possibilità e mi rivolgo entrambe come bypassare questo problema della Convenzione di Dublino le ONG umanitari dicono che la Convenzione di Dublino o il sistema Dublino prevede sì che il Consiglio in cui arrivano il migranti deve presentare richieste dell'asilo però si dice pure che c'è anche la possibilità di ricongiungimento familiare ancora però è stata una pista non esplorata è come se se l'avessero dimenticata poi altre idee le Nazioni Unite avevano richiesto di avere un mare nostro ma europeo una richiesta che è stata trascurita dal Consiglio non l'hanno neanche presa in considerazione la chiedere c'è bisogno secondo voi di un mare nostro europeo come diceva Timmermans perché sappiamo che la Commissione molto spesso alle sue parole non fa fare seguito i fatti ad esempio quella trasforza sul Mediterraneo dopo Lampedusa e terzo punto e chiudo avete visto quel non paper del ministro Alfano penso di sì per la Tunisia e gli altri paesi costiari che dovrebbero collarsi la responsabilità nella gestione dei flussi migratori stando anche con la garanzia del principio di non rispingimento delle Nazioni Unite per raccogliere poi tutti i migranti nei loro paesi di partenza qualcosa di fattibile secondo voi la sostenete o lì sia abbastanza problematica la prima domanda che il regolamento di Dublino io direi che ha questo tema che è stato anche evocato questa mattina e il mio punto di vista è quello che se dobbiamo affrontarlo dobbiamo andare verso il mutuo riconoscimento dello status di asilo perché questo è il primo punto su cui gli stati membri devono lavorare che quando viene riconosciuto lo status di asilo in un paese dovrebbe avere la possibilità di essere riconosciuto anche in altri quindi per me questo è uno dei punti se dobbiamo cambiare dobbiamo modificare lavorare verso il mutuo riconoscimento appunto dello status di asilo che ci sia la possibilità e la necessità di avere un mare nostrum europeo a mio avviso sì perché sono i contenuti di quella proposta che sono importanti cioè vuol dire condividere i 28 paesi devono condividere la solidarietà e anche l'equa ripartizione delle responsabilità perché ad oggi il mare purtroppo si lascia troppo alla discrezionalità di ogni paese e di ogni singolo paese ciò non dà comunque una giusta soluzione e aderiscono due o tre paesi e molte volte questo tema ma viene dato o all'Italia come se fosse un problema dell'Italia Malta Spagna Grecia i paesi che si affiancano sul Mediterraneo quando il mare dovrebbe rappresentare lo spazio esterno dell'Unione Europea quindi a questo punto anche diventare un mare nostrum europeo e l'ultimo punto quello del ministro Alfano perché penso che la domanda era proprio specifica a quella che aveva presentato il ministro Alfano ma io direi che bisogna distinguere da quelli che sono proposti che sono stati fatti da stati membri da quelli che è un percorso che stiamo portando avanti o quello che porta avanti la commissione ad oggi questo percorso che noi vogliamo evitare quella di lasciare che siano i singoli paesi a portare avanti alcuni progetti ma che sia un percorso condiviso da tutti gli altri paesi deve ancora avere delle certezze ho detto prima quando parlava del processo anche di Rabatto o processo di Khartoum che bisogna sempre partire dal fatto del rispetto dei diritti umani quindi ogni proposta che deve essere fatto analizzato ma deve anche incrociare quelli che sono i principi basi condivisi che sono quelli dei valori fondamentali universali che sono anche del rispetto dei diritti umani per cui molte delle proposte che sono state fatte saranno analizzate prese in considerazione e credo che alla fine il rapporto dovrà tener conto anche di tutto questo per quanto riguarda Dublino terzo conto della discussione alla commissione libe di ieri si sta discutendo di piccoli avventamenti per i minori non accompagnati e ciò vi fa anche capire come siano le cose questione istantanea perché accordo unanime praticamente a livello del Parlamento sostegno tra tutti i gruppi per la proposta della Vickstrom perdere seguito alla sentenza della Corte e quindi affinché i diritti dei minori diventano una delle nostre priorità per aiutare le persone più vulnerabili che arrivano alle nostre frontiere e quindi il Consiglio invece si trova in una situazione completamente diametralmente opposta tenuto conto quanto scaturisce dalla Convenzione di Dublino con l'aumento di Dublino si diceva per l'appunto che tutti gli ambientamenti che vengono portati a Dublino non ritoccano da vicino quello che è la questione fondamentale dell'owneris proporzionata che incombe su quegli stati membri in cui l'asilo viene presentata la prima richiesta d'asilo bisogna realizzare tutti questi presupposti per capire come potranno funzionare le cose se non si fa ciò allora non si procede insomma questo è un presupposto ineluttabile poi si diceva è già stato amendato a Dublino però bisogna vedere come funzionano le cose però insomma ancora non siamo ancora analizzando però come è stata attuata perché se l'aveste analizzata nella sua attuazione avrete visto quale è stato il numero dell'impatria o di spostamenti coatti o trasferimenti all'interno dell'unione ai sensi di sistema Dublino trovare due stati membri come quegli stati membri che sono toccati più severamente dalla situazione è chiaro che l'impatto di Dublino su questi due stati membri non è stato attuato per quanto riguarda il mare nostro in Europa come diceva Cecil stiamo ancora esaminando tutte le proposte con gli ONG che continuano a darci i loro riscontri le loro idee anche gli stakeholders i rappresentanti nazionali e insomma porteranno il loro contributo prima che ci sarà una proposta definitiva e poi bisognerà discutere di queste proposte con tutti i relatori ombra grazie non c'è ancora abbiamo chiuso grazie a tutti arrivederci grazie grazie a tutti